A quanto pare non ha cosa semplice riuscire a svegliare la piccola di casa Ferrandez Lo ha dimostrato proprio il rapper Fedez, non c'ha che dire, ha un papa molto presente e anche affettuoso Lo ha dimostrato già da tanto tempo anche con Leone Il primo genito, infatti, ha sempre e volentieri stato riempito di affetto e di attenzioni sia dalla mamma che da rapper Questo lo sappiamo bene anche perca simbolo di copyright I due famosi genitori documentano praticamente ogni cosa della vita quotidiana Il figlioletto maschio, tra l'altro, nel corso del tempo, ha diventato una vera e propria star del web a sé stante con una fan d'eccezione Persino Jennifer Aniston aveva infatti apprezzato la tenerezza del piccolo, dimostrandolo con un like Nelle ultime ore, peraltro, Fedez ha molto occupato con i bambini, e, sembra, che per giunta si diverta molto con loro Le stories, neanche a dirlo, si sprecano, e raccontano un po' i bei momenti passati insieme La family in effetti sta trascorrendo delle ferie veramente bellissime, all'insegna dell'amore e della spensieratezza Le foto sono tantissime e, tra il serio e il faceto, i Ferranets ci danno la prova che si stanno rilassando come non mai Vittoria e Fedez hanno fanno divertire i follower qualche giorno fa, dunque, non ha mancata nemmeno la visita del collega e amico Achille Lauro con il quale, ricordiamo, il cantante milanese sta scalando le classifiche con mille Il successo, comunque, a merito di tutti compresa la orietta nazionale Vittoria, per D.P.A. alla prima, si sta dando da fare per imparare qualcosa di nuovo, lo abbiamo visto nella storia nella quale tiene in mano un libretto di favole? Ma, a quanto pare, non ha tanto farla leggere o guardare le figure il problema P.A. alla prima ostico E no, perca simbolo di copyright Fedez, sempre in un breve filmato su Instagram, ha fatto vedere quello che sono costretti a fare ogni volta per cercare di svegliare la baby Ferranets Pare, dunque, che ci voglia molto di P.A. alla prima di una comune sveglia Non sempre dunque è facile per mamma e papa ridestare la bambina durante un suo sonnellino Fedez e Leone, il figlio disobbedisce al papa La reazione video Chiara Ferrani stupita dalla piccola Vittoria, ma come fai a saperlo già, video intanto Comunque, le loro vacanze procedono senza toppi insieme con i figli e anche con i loro amici che li sono venuti a trovare e che fanno anche un po' da babysitter a Leone e Vittoria La reazione video Chiara Ferrani stupita dalla piccola Vittoria La reazione video Chiara Ferrani stupita dalla piccola Vittoria La reazione video Chiara Ferrani stupita dalla piccola Vittoria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.